la scala in discesa si può eseguire anche di scatto e a velocità sostenuta vediamo al rallentatore come si fanno i semicerchi in punta d'ala di scatto e veloci dare un colpo di acceleratore flettendo il braccio e contemporaneamente un colpo di freni estendendo l'altro braccio ripetere il doppio movimento in senso opposto quando il revi si trova sulla linea verticale dare un colpo di acceleratore flettendo il braccio e contemporaneamente un colpo di freni estendendo l'altro braccio grazie 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 grazie